Al Salone di Los Angeles ha debuttato nella versione quadrifoglio la nuova Alfa Romeo. Si chiama Stelvio ed è il primo SUV del marchio in oltre un secolo di storia. Nato nel centro di ingegneria Alfa Romeo a Modena, nel cuore della Motor Valley italiana, il SUV Stelvio sarà realizzato nella fabbrica di Cassino, su una linea di produzione dedicata esclusivamente ai nuovi modelli Alfa Romeo, come la Giulia che ha dato vita nel 2015 alla nuova era del marchio, destinato a diventare il punto di riferimento del segmento, il nuovo modello racchiude in sé l'autentico spirito Alfa Romeo, declinato nei cinque elementi che ne fanno uno dei marchi automobilistici più desiderabili al mondo, design distintamente italiano, motori all'avanguardia ed innovativi, perfetta distribuzione dei pesi, soluzioni tecniche uniche, eccellente rapporto peso-potenza. Il SUV Stelvio sarà realizzato quindi nella rinnovata fabbrica di Cassino, come lo è stato per la fascinante Giulia, che ha dato vita nel 2015 alla nuova era del marchio, attraverso i suoi rivoluzionari canoni di stile e tecnologia. Oggi gli stessi ingredienti adattati a una nuova categoria di automobili ritornano nell'originale SUV Stelvio. Stile sportivo al 100% Alfa Romeo, prestazioni di assoluta eccellenza, e una dotazione tecnologica e tecnica che non conosce paragoni, nel segmento dei SUV compatti premium. Grazie a tutti.